A proprio delle aree che praticamente sono in attenzione, sono qua, ma in 2019 sono un'altra, sono anche a 10 albini, sono lungo, sicuro che il finito ne trovo una questione di tangente è stato bloccato, questo è 1.990.000 euro, ben 1.340.000 sono dei sussidi per gli anziani, cioè praticamente nei ragazzi sono anziani, ci sono 2.700 euro di progetti per le biblioteche, ogni biblioteca può creare dei progetti, che sono stati bloccati anche, non gli sono stati dati. Un progetti � pretro di Greenville non parte Grego, progetti culturali, tipo concerti, oppure invitare una sera una pensionola. Un'altra italiana questa è la base del mio carriaro per la preghiera, la ricompa che non gli abbiamo indipendente, la incommessa la generale di attribuito dalla classe. Abbiamo avuto le fotografie da prendere la nostra scoperta, non avremmo avuto un sacco di altre cose perché lei sapeva chi chiamare per farsi. Ilimo carriaro di promozione? Ma come farà arrivare a mattia il fatto di sapere che c'è una segretaria, forse molto per la sanna, quindi ci saranno due. Grazie a tutti. Grazie a tutti.